ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine la componente politica alternativa libera possibile del gruppo misto è stata invitata a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire, invito i relatori e i rappresentanti del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti al tale articolo. La parola al relatore di maggioranza. Prego. Sì, grazie Presidente. Relativamente agli emendamenti e all'articolo 1, invito il ritiro a parere contrario su tutti gli emendamenti. La ringrazio. Allora, il relatore di minoranza turco. Prego. Presidente, se mi può magari elencare lei. Subito. Allora, 1.1 Colletti. Mi rimetto all'aula. 1.3 Andrea Maestri. Favorevole. 1.4 Colletti. Contrario. 1.5 Colletti. Contrario. 1.6 Colletti. Contrario. 1.7 Colletti. Favorevole. 1.80 Andrea Maestri. Favorevole. La ringrazio. Adesso Colletti. Sempre il relatore di minoranza. Prego. 1.1 Favorevole. 1.3 Favorevole. 1.4 Favorevole. 1.5 Favorevole. 1.6 Favorevole. 1.7 Favorevole. 1.80 Mi rimetto all'aula. La ringrazio. Grazie Presidente. I pareri del Governo sono conformi a quelli del relatore di maggioranza. Grazie. La ringrazio. Bene. Allora, siamo sull'1.1 Colletti. Colletti, prego. Come ho spiegato durante la relazione di minoranza, noi siamo contrari a questo provvedimento non perché sia necessario, anzi è necessario. Colletti, prego.